anche il tizio deve essere dentro vedo qualcosa di droppato a terra barili, zaini, roba droppata vado? no, aspetta, non vedo Iana, non vedo eh vabbè non ti posso dire se sono dietro la porta oppure no eh, tanto non sanno che siamo qua non stanno dietro a fare la porta vabbè attento quando entri tu copri esattamente l'entrata davanti sai che potresti fare Ia? potresti fare il giro e aprire la dietro non c'è, ah si è quello lì dove dove? proprio dietro morto ok però è da solo proviamoci cattiamo il sento di roba accanto grazie mi è sparita una giacca piena di roba c'è il nostro desiderio madonna quanta roba dai dai veloce veloce ah, ottimo minchia questo me lo catto su minchia ti sei preso la cappa mio vabbè dai cattiamo su tutto e scappiamo oh oh è questo oh è questo chi è? si ecco è giù e l'ha ucciso? si è giù ok dai veloce perchè sono qua attorno sta merda ecco figurati se non sei tu che ti avvicini? ok dai prendo prendo un po' di roba coprimi ecco ecco io sto non mi dica che sei già andato no no sono qua dentro sto cattando su anch'io occhio che sei proprio davanti l'entrino lo so lo so lo so no cazzo luca hey dica niente donna quanta carne ma questi non giocano da un giorno munizioni di fuggire a pompa un fottino di roba eh come fai a portarli via tutti ok occhio di ottimo eh non me li fa prendere chiocchialmente non spara su qua 545 si non ce l'ha non ce l'ha oh dinamite 839 ah ora alla fine sei riuscito a entrare mhm dio cane giusto 6? quasi quasi guarda dio porco ah no pensavo eri su rainbow six consiglio no no cattivo che sei davis a rainbow in bocca ah è davvero un minuto fa si leviamoci alle palle dai dove eri? e aspettiamo camperiamo l'entrata mauro voi dove siete? nord nord dove? maia polana da più punto se possiamo intanto adesso ce l'ho anche il fucile da cecchiero ma tu c'è una polana dove cazzo sta ah ok io sono a a crasmo stanno bella rega bella dice bella ciao ciao capito mauro? sei a crasmo stav vieni a si a bellaia polana dove hai bellaia polana? in alto al nord oh porca troia non eri a cernaia polana andiamo a bellaia bellaia beh che cazzo venga a fa su mauro ma che vieni a fa? ci metto tre ore a salire non ti vale che me ne vado a a fa il culo scusa stai a crasmo stav porco dio sto a beccati il tuo occhio beh ma stai a crasmo stav dio merda vieni su dai ho capito ma mauro ma che venga a fa su? ma ci metti un secondo stiamo abbiamo c'è gente gente con basi basi con roba vieni abbiamo ammazzato tipi tipi dentro dio cane vieni su ahahahahah ma scusa no 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 niente pensavo di aver preso un coso un ma no 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 no